Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone adesso ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno. Fino alle 22, svincolo chiuso per lavori a Santa Croce sull'Arno in entrambe le direzioni. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Sulla strada regionale 206 Pisana Livornese, da oggi per circa 50 giorni, è chiuso il ponte sulla Fossa Chiara in località Arnaccio per lavori. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!